ci sarà bisogno di intetegnere, non sarà il pubblico stesso a continuare in questo dialogo. Quindi, una prima domanda, è una domanda di carattere molto generale, riguardo a Pompeta, e la seconda. La prima, e apparentemente di prescindibile la riflessione sulla tragedia, è stata la guarda da Aristotele, un filosofo. È corretto che il filosofo analizzi la tragedia attraverso il sito di un'interpretazione filosofica? E qual è la legittimità di un'ottimitura filosofica della tragedia? Grazie. Allora, mi hanno detto che devo parlare io per primo, perché sono il più vecchio, quindi certe regole in realtà mi vorrebbero allungere, può capire, però vediamo di introdurre l'argomento. Allora, la domanda che è stata rivolta, questa prima domanda che è stata rivolta, contiene una serie di questioni di cui la risposta ovviamente non è falsa. e me la caverò rispondendo con un'altra serie di domande. so che non è una buona educazione, risponde con una domanda ad un'altra domanda, ma in questo caso credo che il problema fondamentale sia quello di far vedere la ricchezza del tema, le spacciettature, i problemi che ci stanno sotto, piuttosto che cercare una risposta che sarebbe comunque una risposta molto affrettata e molto significatoria. la prima delle domande quindi, la prima questione che io porrei a questa domanda è quando si dice, si parla di Aristotele come un filosofo. Perché? Ma perché se noi andiamo a vedere che cosa è la nostra storia della filosofia, quella che il nostro comune senso avverte come storia della filosofia, e qui c'è qualcuno che ne sa molto di me, che è se degastati, può constatare che in realtà di filosofia vera e propria, così come viene professata, almeno come veniva professata, fino all'età del XX secolo, poi le carte sono andate un po' per aria, è quella lì che parte dalla storia. cioè quella che delimita un discorso razionale nei termini di una proprietà linguistica molto ben determinata, che non ha una ipoteca di rivelazione alle spalle e che non usa strumenti di tipo suggestivo come è il mito per esempio. Da questo punto di vista, tra Kant e Aristotele non c'è nessuna differenza, mentre se noi andiamo dietro, prima di Aristotele, le cose sono molto diverse. E non è difficile capire perché. Perché in realtà la storia della filosofia, fino ad Aristotele, l'ha inventata Aristotele. L'ha inventata Aristotele in Fisica 1 e Metafisica 1, dove rifà la storia dei problemi che lui affronterà e la storia dei problemi che lui affronterà, è la fase con i propri principi, compattando insieme esperienze linguistiche, esperienze concettuali, esperienze iniziatiche, molto diverse da tant'altro. Per cui c'è questa invenzione del linguaggio e sul linguaggio viene organizzato un discorso. Questo non è privo di senso per l'approccio di Aristotele alla tragedia. Perché ci sono due pratiche linguistiche secondo Aristotele. Proprio, vado giù in modo molto semplificato, ma credo che tutto sommato dire le cose in modo molto semplificato possa dire poi per eventualmente anche la lettera di sfumatura. Ci sono due pratiche linguistiche. La prima è quella della proprietà del linguaggio. Quella che privilegia la denotazione sulla connotazione. E questo è quello che mette in pratica Aristotele, con molte eccezioni, naturalmente, perché grazie al cielo era persona superiore alla propria invenzata disciplina, però in cui il ricorso al valore denotativo dei termini è determinato. Poi c'è una pratica linguistica, invece, che gioca molto sulle connotazioni. E queste sono la retorica e la poetica. Cioè, sono linguaggi che contengono anche, che sono anche maestre di verità, però in un'altra maniera. Cioè, che si accostano, che affrontano la realtà secondo una pratica linguistica diversa. Per cui, l'interesse di Aristotele per la tragedia è proprio l'interesse di chi ha codificato una certa regola di linguaggio per vedere come altre regole di linguaggio che hanno avvenuto in modo molto profondo sulla sviluppo della città. E la città è quello che vuol dire la cultura. Quindi, questo è già un primo atteggiamento. Ci si chiede se sia corretto che il filologo analizzi la tragedia, direi, senza alcun dubbio. Perché? Perché essendo Aristotele il primo codificatore della tragedia, fa parte della storia della tragedia o fa parte della storia della tradizione della tragedia. Soprattutto è colui che ha suggerito delle regole di lettura. Aristotele andava a teatro, era anche, quindi le tragedie le ascoltava e le vedeva. Ma delle regole di lettura che sono poi imprescindibili a qualunque esame successivo. Anche coloro che qua credono o pensano, o magari lo sanno veramente, di leggere la tragedia, prescindendo da Aristotele, in realtà, molto spesso, sono soltanto in polemica con Aristotele, ma essere in polemica non vuol dire precedente da Aristotele. Quindi, se il filologo è uno storico, è ovvio che deve anche occuparsi di questo. Però ci si chiede anche qual è la legittimità di una lettura filosofica della tragedia. Qui la mia domanda è proprio non vi so suggerire nessuna cosa. Cioè, non ho idea di che cosa sia una lettura filosofica della tragedia. Vi posso dire, vi posso dire, ma non ve la dico perché ne parliamo, stiamo qui fino alle 10, quale sono state le letture filosofiche fatte, letture di molti filosofi della tragedia greca. Quello sì. Ma che cosa sia, concettualmente, una lettura filosofica della tragedia è una domanda che vi restituisco per rimbalzo e sarò molto contento poi di ascoltare le eventuali risposte. perché? Ma perché poi, tra l'altro, anche il... a meno che, appunto, non si voglia, e questo diventa molto pericoloso, contrapporre una lettura filosofica ad altre possibili letture. che Aristotele non ha fatto, questo è la cosa fondamentale, non ha preteso di tradurre la tragedia nei termini della filosofia. Ha escogitato, anzi, una serie di categorie che andassero bene a creare la tragedia. Allora, una lettura filosofica della tragedia, mi sembra, sia già andata di Aristoteca, cioè sia appunto colui che il primo filosofo che si è occupato di tragedia. però adesso a questo punto io mi posso anche fermare perché non parla troppo e quindi parla Lenny Most e poi parla chi vuole. Grazie, Diego. L'ordine di noi due è terminato non dall'anno di nascita, ma dall'altro evento. Diego ha già schizzato in maniera molto lucida e utile il contesto generale, che non c'è un po' pensario, ma si domande, più aggiungero quantità ronde più precisamente su le corpore battuete di Aristotele e su cosmo direi di una lettura filosofica per lui. Se uno, non c'è dubbio che battuete di Aristotele, è il contesto di critica letteraria più importante dell'istoria dell'Occidente. ha influenzato tutta la lettura, non solo della tragedia, ma di tutta la letteratura per molti secoli ed è impossibile prescindere di dell'acquettiva di Aristotele oggi. Se uno parla di ignoranza dell'acquettiva di Aristotele, continua a parlare dell'acquettiva di Aristotele solo che non lo sa e lo fa male. Perciò è un testo di enormi valori e di enorme intelligenza come tutto quello che Aristotele ha fatto. Però se uno fa tutto in una paragona la tragedia greca come è trasmessa in noi e come è stato una realtà della visita civica e religiosa di Atene, da cui è ancora in secolo, e anche di ancora, con immagini della tragedia greca che negava Aristotele nella poética, sono due cose molto diverse. Aristotele trascura quasi completamente l'aspetto del spettacolo, non c'è chi esiste ma esprime discrezza per questo. Aristotele sopreme e recrime completamente l'aspetto divino. Non ci sono dei nella voce di Aristotele, benché ci sono dei nella tragedia greca. Non ci sono maledizioni, non ci sono oracoli, non c'è destino. Tutto questo che manca, totalmente nella docuolica di Aristotele, immaginate una tragedia greca senza questo. Il risultato è che l'imagine che Aristotele citava la tragedia è uno della descrizione o rappresentazione di individui umani che naciscano e che soffrono. Lui, dato che non parla dell'aspetto religioso, non può spiegare la loro sofferenza per i dèi, per quello che i nomi hanno fatto. devi spiegarlo come un fallimento, un errore. Volevano fare qualcosa, si sono sbagliati e sono finiti male. Il risultato è che le immagini dell'office greca che Aristotele citava è quello del comportamento umano come viene discritto e non pensato da Aristotele nella sua etica diplomatica. tutte le categorie, con poche eccezioni, come Aristotele analizza la tragedia greca, derivano o dalla sua etica, o dalla sua retorica, o dalla sua politica e vengono applicate alla poetica. Si comincia a provare e poi si arriva. il risultato è che la interpretazione di Aristotele è una testimonianza importantissima di come uno poteva vedere la tragedia greca cent'anni dopo, è anche un fondamento indispensabile per discutere e pensare della letteratura in generale. ma per la tragedia greca stessa come è stato messaggina per cento anni e di più è una vita falace, da un'immagine monica della letteratura in generale. questo si può dire che è una letteratura filosofica e con questo arrivo alla seconda domanda. però, ed è evidentemente un'interpretazione filosofica nel senso che è un'interpretazione sulla base della filosofia aristotelica. lui, vedendo la tragedia, applica categorie che essono un po' per altre cose, perché fanno buon senso con le altre cose e vanno abbastanza bene si vera per la tragedia. questo è, come vi avevo detto, un esempio particolare di un'interpretazione filosofica cominciando da Platone, Cinesi e Tanti e ognuno ha una sua interpretazione filosofica. un'altra questione, e con questo lascio per momento a voi, e se è possibile avere un'interpretazione non filosofica della tragedia. si può dire che ogni interpretazione ha delle permesse che è un'idea. poi o conosce le sue proprie predecessi o le non le conosce. fa finito di non averle. e riprime. secondo me, dato che ogni interpretazione ha delle permesse che è un'idea, è meglio portarle a conoscenza e examinare. e più che io fa questo, più l'interpretazione diventa filosofica, non solo teologica, ma filosofica, nel senso che ogni permessa viene sottomessa all'analisi logica e all'sforzo di comunicazione intersofittiva. ciò che io personalmente credo risco non è un'interpretazione che segue una dottrina filosofica particolare, ma una che prova a cominciare con i testi e poi tornando sempre ocivando tra i testi e le permesse progettate due un grado di conoscenza più comicità. senza però dire che Amistoti aveva ragione o come con noi aveva ragione il table o pari o altri. e con questo devo ancora una parola. ma posso aggiungere? no, una cosa a quello che è il problema, poi dopo sto attivando, ecco, e chi mi trova come aggiunto d'accordo e direi che proprio questo è la cosa fondamentale, cioè quella di Aristotele non è soltanto una codificazione della tragedia, non è una trans codificazione, cioè un trasferimento in questi cent'anni le cose sono cambiate, soprattutto è cambiato, prima ho detto Aristotele andava a teatro, però presupponeva che poi i suoi lettori leggessero, per cui scompare tutto il nostro ricordo. poi c'è tutto l'aspetto che secondo me è fondamentale, ovviamente secondo gli studenti, e cioè che la tragedia viene deprimata di qualunque legame con la religione, con questo non voglio dire assolutamente che la tragedia è un rito, eccetera, eccetera, e poi lasciamola da parte, ma quando uno parla di mito, cioè rappresenta un mito, e invece Aristotele questo fa un lavoro di pulizia assoluta, un lavoro di pulizia che peraltro l'ha fatto a troppo, quindi gli va benissimo, ma che combattano, se intanto studi, in quanto riguarda il mondo, se nessuno fa subito la domanda, la cimacchina non lo fa subito. è fondamentale critichare Aristotele, nonostante, se non guarda l'intelligenza che non ha storato in fronte, non ha storato in fronte, e la storia in fronte, è fondamentale critichare quali che dice sull'evoidica, è importantissimo critichare quale che dice sull'evoidica, se non voglio capire in la tragedia, e se non voglio capire in Aristotele, Però avevo indicato in una frase, che la politica di Aristopoli e le testimonianze importanti su come la tragedia greco doveva essere riscrita c'è un anno dopo. Perché la tragedia antica aveva una funzione importante della religione e della politica di Ateca. Se fosse stato solo un mito religioso sarebbe risparito perché la politica e la religione di Ateca interessano pochi politici. Perché la tragedia potesse sopportituire alla sua radice politica e religiosa doveva essere capace di essere capito in separazione dalla religione e la politica. Quella che aveva fatto tragedia nell'istoria occidentale. Nel quinto secolo, nel quinto secolo e nel quinto secolo e nel quinto secolo, nel quinto secolo. Aveva fatto le tue tragedie che Aristopoli scrivono. senza cuore, quasi semplicemente, senza tutte queste altre cose. E così la tragedia greca è sovrisuta. Anche oggi, se vanno all'Urgilia per vedere la medie di Orifide, saranno pochi che vanno per vedere il cuore. Vanno per vedere la medie di Orifide, la persona umana e di vita in queste situazioni che fa una cosa per me e che ci spiega perché lo fa e che ci spiega che sa che per me. Questo vuol dire che la focalizzazione sulle persone e sulle relazioni e sofferenze che Aristotele fa non solo in difetto del basso approcci, ma anche in esempio di comunale in generale di un'attività 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 di un'attività. Grazie. 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 sotto l'effetto emotivo che produce, quando dice è orribile è il più bravo, quindi è tragicopatos per le tess. In realtà la categoria di tragico, io sospetto che emerge quando muore la tragedia. Non c'è neanche nella grande stagione francese del seccento, non si parla mai di tragico. Quando si parla di tragico? Si parla di tragico da quello che noi siamo soliti chiamare romanticismo. Quindi principio dell'ottocento. E il mio sospetto è chi è il protagonista del tragico? Perché tra noi non c'è chi. Chi è il protagonista del tragico? La tragedia che va, le tragedie poi si scrivono, ma sono tragedie che non c'è la presenza molto spesso. Non c'è la prova tedesca, le tragedie ci sono. Ma il protagonista del tragico è l'uomo, questo lo dicono loro, lo dicono nella diffusa pubblicistica dell'Occicchio dell'Ottocento in Germania. E' l'uomo contro il destino. E' la lotta dell'uomo contro il destino. Quindi già vedete che il destino è un recupero, sì, di un certo atteggiamento, di una certa componente religiosa o parareligiosa che esiste nella tragedia greca. In cui però non viene mai evidenziato in modo... perché il destino è... adesso qui si andrebbe da oscura per oscuri ora. Cioè il destino è... si confonde con gli Dei, non si capisce bene se il destino che determina i Dei o qualche Dio che determina il destino. non cominciare da un meta, ma la questione già è sempre molto confonda. Però qui è un destino completamente diverso. E il percorso del tragico ci porta dal primo romanticismo fino all'esistenzialismo. che ci porta fino a Camus, o fino agli Asperes. E questo sì è tutto un altro. E questo è un discorso filosofo, ma è una lettura filosofa, ma è una lettura non filosofica nel senso in cui diceva prima Lemus, cioè una concezione del mondo che sta dietro un'interpretazione e che è ineliminabile evidentemente. Se uno lo sappia o no, l'ideologia ce l'ha. Anche quando crede di non averla. Ma è un discorso fortemente, come dire, selezionante, fortemente renditivo quello di ricavare all'interno delle tragedie questa categoria di tragico. Cioè la contrapposizione dell'individuo al destino. questo sopravvive, dicevo, fino a Camus, fino all'alto. Sopravvive fino verso la metà del secolo scorso. Adesso in tragico, ci parla di tragedie, vabbè la tragedia di questo, la tragedia di quello, no? E' incascato un treno al posto, una grande tragedia, ma è un mudo per dire una grande disgrazia, non ha niente a che fare con la tragedia. Perché a un certo punto si estingue? a me non mi interessa tanto quando nasce la categoria di tragico, ma quando muore la categoria di tragico. La mia impressione è che la categoria di tragico viene meno quando viene meno la figura di quello che si chiamava l'intellettuale. Cioè questa figura, che a voi è praticamente ignota, questa figura di Hondelet, che non è soltanto per Hondelet, che è una presenza culturale, che è un maestro di cultura, un maestro di idee. E che si scontra contro un destino, cioè una società che non lo accetta. Con questo discurso però andiamo già più avanti. Se noi ritorniamo un attimo dietro, e cioè ci interroghiamo proprio su che cosa possa essere oggi tragico, Ecco, questo, ripeto, questo per me non è chiaro, perché prima in tutto bisogna mettere da capo e cosa vuol dire tra l'altro. Perché, ripeto, il romanticismo ha offerto una soddisfacente risposta a tutti questi umani, dall'obbligo di vista. Grazie. Grazie.